Eccoci qua alla nuova puntata, stasera puntata intensa, breve, breve ma intensa. Allora parleremo di un poeta che viene collocato nel Medioevo intorno al 1369 e 1417 e un poeta turco. Ecco, ma la cosa che mi ha colpito delle sue poesie, cioè la cosa di questa poesia che è riportata qua sull'antologia, è il suo carattere filosofico. Quindi andremo a leggere questa poesia filosofica e poi ditemi voi cosa ci vedete, che tipo di filosofia ci vedete, oppure cosa vi ha trasmesso alla fine della lettura, insomma, alla fine del video. Leggiamo Se scendi nella profondità di ogni forma, l'essenza di ogni forma scoprirai, e l'esistenza. Ma non scagliare pietre allo specchio della ragione, se questo specchio si spacca, saranno sciogure. Allora, poi vi lascio il testo come al solito, in generale, il poeta attraverso queste poesie cerca di risalire all'inizio del mondo, quindi all'essenza del mondo, all'essenza delle cose del mondo, degli enti che sostistono nel mondo. E nei suoi componimenti, in generale, anche quando si ha l'io, cioè mette in campo, mette in gioco l'io, questo io risulta essere sempre un io collettivo, nel senso che è simbolo dell'umanità che ha un percorso da seguire, che è questo perfezionamento spirituale. Ecco perché nei suoi componimenti c'è sempre questo senso di spiritualismo, e anche perché l'umanità deve fare questo cammino verso il perfezionamento spirituale, dato che l'uomo è il caposaldo dell'universo e in lui risiede l'essenza di Dio. Ora, in questa poesia che abbiamo letto, il gergo filosofico utilizzato, sì, è un gergo di tipo, mi verrebbe da dire quasi metafisico, nel senso che si va alla ricerca della forma, dell'esistenza, dell'essenza. E la prima parola, che è la profondità di ogni forma, ma è qui come in quanto anima, ma intesa come, mi verrebbe da dire appunto, anima, come qualcosa di spirituale, dove appunto nell'anima, in generale, noi scopriamo la nostra esistenza. Anche perché poi questi primi due versi sembrano contrapporsi a quello che dice dopo, perché dice la profondità della forma, però non scagliare le pietre contro lo specchio della ragione, gli ultimi due versi, entri in gioco la ragione. Allora, se prima è entrata in gioco la ragione, prima nei versi precedenti, allora dovrebbe entrare in gioco, non necessariamente, però questa è la mia supposizione, qualcosa che è più spirituale, qualcosa che è in contrasto con la ragione. però, non lo so, è un po' ambigua, vi rimane ambiga, secondo me si può interpretare in tantissimi modi, ed è per questo che ve la propongo, perché non si trova su internet il commento, quindi è anche una cosa che veramente lascia libera interpretazione. però sicuramente ha un significato diverso, profondo e insomma, niente, io vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao!